La famiglia dei tablet Samsung si allarga con il nuovo Galaxy Tab S2. Prestazioni al top e grande versatilità per quello che ad oggi è il più sottile e leggero tablet sul mercato. Vediamo le sue caratteristiche principali. Design elegante, peso piuma e spessore da record, display Super AMOLED e 4 terzi, multischermo avanzato, produttività al top con Microsoft Office. Utilizzare Galaxy Tab S2 è un'esperienza davvero piacevole proprio per la sua leggerezza e per i materiali utilizzati. Estremamente gradevole al tatto grazie alla cornice metallica e al retro antiscivolo che assicura una presa comoda e sicura. Galaxy Tab S2 è disponibile in due formati, con schermo da 8 e da 9,7 pollici. Il display Super AMOLED con risoluzione superiore al Full HD e garanzia di immagini brillanti e definite con un elevato grado di contrasto abbinato a colori naturali e intensi. Uno spettacolo per la vista! Il display 4 terzi è l'ideale per lavorare, navigare sul web e leggere ebook o riviste e con la funzione multischermo potremo utilizzare contemporaneamente due applicazioni, tra quelle selezionabili. Ok, l'occhio vuole la sua parte, ma nel nuovo tablet Samsung c'è anche tanta sostanza. Le prestazioni sono affidate a un veloce processore octa-core coadiuvato da 3 GB di memoria RAM. 32 sono invece i GB deputati alla memoria di archiviazione, espandibili tramite microSD. Sono disponibili anche 100 GB di spazio in cloud su OneDrive gratuiti per due anni. Anche dal punto di vista software, Galaxy Tab S2 è altamente competitivo. Abbinato a Microsoft Office, incluso nel dispositivo, diventa uno strumento con cui gestire i nostri documenti velocemente e in mobilità. Samsung Galaxy Tab S2, potenza e versatilità non sono mai state così sottili e leggere.